Il fatto di mandorle, nocciole, uguetta passa, c'è anche del cocco grattugiato e quindi va praticamente distribuito sopra la pasta sfoglia, in questo modo, molto semplicemente. Io faccio prima vedere che si fa anche così. Per chi è a dieta è sconsigliato, oppure mangia questo e poi sta una settimana senza mangiare proprio nulla. Poi versiamo questo latte in panna che deve essere, qui non c'è soltanto latte in panna, all'interno di questo c'è latte, latte la panna, lo zucchero, la vaniglia, la cannella, viene fatto scaldare, quasi arrivare a bollore, deve essere molto caldo altrimenti non viene assorbito e si versa. Ce ne vuole, insomma questa la ciotola è abbastanza grande, quindi siccome la pasta sfoglia assorbe insomma ce ne vuole un pochino, questi sono due litri, la dosi è intorno ai 150 grammi, 200 grammi di pasta sfoglia e quasi un litro di... Sì, scopri. E poi dobbiamo scrivere il... ...